veniamo a quello che secondo me può essere considerato il grafico del giorno e vorrei che come dire proprio ragionare sul titolo netflix perché vorrei ragionare su netflix perché ha dato gli earnings no e quindi secondo me vale la pena è il primo titolo della famiglia dei tecnologici di un certo livello a dare gli earnings gli earnings hanno portato il titolo a quotare in after hour 720 dollari per azione lo vediamo qua il che vuol dire che questa salita del titolo che netflix ha una storia particolare a un certo punto alla fine del 21 comincia a scendere e come si può vedere e ve lo faccio vedere in termini numerici parte da questo massimo e scende scende talmente tanto che perde e lascia sul mercato come vedete qui circa il 75 addirittura un po di più ma come dire come dire ragioniamo su circa un 75 per cento della sua capitalizzazione sembrava che non ci fosse più pace per netflix e invece a quel punto netflix comincia a risalire lentamente ma inesorabilmente il trend di salita è un trend come posso dire che noi possiamo anche vedere è ben delineato è abbastanza facile anche da contenere in una regressione lo si vede tutto sommato ma soprattutto fa recuperare qualcosa come dai minimi diciamo così fa aumentare il valore di qualcosa come il 372 per cento evidentemente e scusate ho sbagliato un po meno è il 350 per cento scusate ho messo male il puntatore allora quello che succede quindi è che noi possiamo ragionare su questo titolo che ovviamente in un questo questo eugenio è quando tu dici che è un movimento più naturale di altri perché il movimento è fatto a zigzag ci sono momenti di alto momenti di basso e spesso nei momenti degli earnings il titolo è andato accelerando ieri eh come dire eh le stime sono state battute il titolo non era andato tanto bene nella sessione di urna però poi si è rifatto appunto nell'after hour oggi lo vedremo aprire 720 il suo prezzo corrente quindi siamo qua non ha superato lo vedete ancora il livello massimo precedente ma potrebbe farlo questi sono i massimi storici quindi è un titolo che sta molto vicino a un livello considerato assolutamente importante quindi tutto sommato diciamo un bel grafico che può avere ancora prospettiva vediamo come si comporterà nelle prossime sessioni non so eugenio se tu vuoi aggiungere qualcosa su netflix prego ti faccio veloce ma proprio un minuto neanche pochi secondi la solita questione alla elliot sicuramente da dove hai detto tu cioè dal 2022 c'è tutta una una fase impulsiva però vedete l'ultima parte adesso tolgo la posizione che avevo già preparato l'ultima parte vedete che non mi viene via praticamente nell'ultima parte vedete che le onde sono più intrecciate fra di loro cioè fa una correzione anche importante e poi il rialzo non è fortissimo la correzione che adesso è già finita perché c'è il nuovo impulso rialzista che lo vedremo io qua non ho i dati dell'after hour ma se andiamo a 730 la possibilità poi di fare noi i massimi sono elevate quindi questa è correttiva però la correttiva ha fatto un overlap cioè entrata dentro il massimo di quella precedente cioè vuol dire che sono onde non particolarmente di grande spinta il che vuol dire che si può fare noi i massimi ma giusto per usare alla fibonacci non ha tantissimo da andare sopra e vediamo alla fibonacci dove può andare adesso questo qui è la rovescia però tra 750 ve lo dico io l'altro livello perché purtroppo mi è venuta la rovescia è 780 ecco tra 750 e 780 può andare ma non ha tanto impulso impulso alla heliot da andare oltre in base a quello che vedo adesso grazie